A Tropea, il titolare di un'agenzia di viaggi per pagare dei pacchetti vacanze, utilizzava numerose carte di credito intestate ai miei titolari. E quanto è stato scoperto dalla tenenza della Guardia di Finanza di Tropea? Le indagini sono state avviate in seguito ad una segnalazione effettuata da una società finanziaria che denunciava alle fiamme gialle l'indebito utilizzo di una carta di credito presso una rinomata struttura alberghiera della Costa degli Dei. Grazie ai successivi approfondimenti investigativi effettuati con il supporto del nucleo speciale di polizia valutaria di Roma, che aveva già attenzionato l'autore della truffa, i finanzieri hanno scoperto che la transazione segnalata si inquadrava in un complesso meccanismo fraudolento in virtù del quale il responsabile della truffa, venuto in possesso dei dati delle carte di credito intestate a diversi ignari soggetti, li utilizzava per effettuare prenotazioni online tramite siti web specializzati. L'autore della truffa, infatti esperto informatico, era riuscito a impadronirsi dai numerosi e dei relativi codici di verifica delle carte di credito di persone italiane e straniere alle quali venivano illecitamente addebitati i costi delle vacanze prenotate dal titolare dell'agenzia, il quale dopo aver incamerato in contanti il corrispettivo per l'acquisto dei pacchetti, vacanze da parte dei clienti che realmente fruivano degli stessi, chiudeva il cerchio della truffa effettuando le prenotazioni e utilizzando per il pagamento gli estremi identificativi delle carte di credito di cui era venuto in possesso. I finanzieri hanno accertato anche che l'autore della truffa ha indebitamente utilizzato i dati di 17 carte di credito per effettuare numerose transazioni, il cui importo è stato quantificato in oltre 28.000 euro ai danni di diverse strutture alberghiere di lusso operanti per lo più in Calabria e in Puglia e dal soggetto è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di indebito utilizzo di carte di credito.